Blitz delle fiamme gialle contro il contrabbando di tabacchi. Più di due tonnellate di sigarette, infatti, per un valore di circa 250.000 euro, sono state sequestrate questa mattina dalla Guardia di Finanza di Giuliano in Campania. Le bionde si trovavano in un deposito di circa 200 metri quadri di Casavatore, in provincia di Napoli. Cinque le persone di età compresa tra i 33 e i 48 anni, che sono state arrestate perché sorprese mentre caricavano le sigarette a bordo di tre furgoni e un autocarro per avviare la distribuzione sul territorio. L'ingente quantitativo di sigarette rinvenuto all'interno del deposito, ripartito in busse da 5 kg ciascuno, era già pronto per essere immesso nel commercio illegito. I cinque responsabili, arrestati in flagranza di reato, sono ora posti a disposizione dell'autorità giudiziaria competente mentre sono stati sottoposti a sequestro il deposito e i quattro autoveicoli. La lotta ai traffici illegali in genere ed il contrasto al contrabbando da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, oltre a garantire condizioni paritarie di concorrenza tra gli operatori economici, si legge in una nota rilasciata dalla Guardia di Finanza, tutela la salute dei consumatori e restituisce risorse allo Stato.